Ciao ragazzi, in questo tutorial vedremo come si apre, come si salva e come si chiude un file Excel. Descriveremo poi la finestra di Excel e gli elementi che la compongono ed infine parleremo della creazione e della gestione delle cartelle e dei fogli di lavoro. Iniziamo! Per aprire Excel ci sono vari modi. Secondo me il modo più veloce è quello di crearsi un pulsante sulla barra delle applicazioni e cliccare una volta su questo pulsante. Un secondo modo è quello, se avete un'icona sul desktop, di cliccare due volte sull'icona del programma. Se invece non avete né l'icona sul desktop né il pulsante sulla barra delle applicazioni, potete andare qua nella barra di ricerca e cominciare a scrivere X e subito qua in alto vi compare l'icona del programma. È sufficiente cliccare una volta su questa icona per aprire Excel. Una quarta alternativa è quella di cliccare sul pulsante Start. Automaticamente compare la lista dei programmi. Siccome ho utilizzato Excel di recente, l'icona del programma compare qua in alto. Oppure potrei andare sotto e cercarla in ordine alfabetico. Eccola qua. Se non l'avete ancora fatto, per aggiungere un pulsante alla barra delle applicazioni, che è comodissimo, è sufficiente cliccare col tasto destro sull'icona di Excel e fare Altro e poi Aggiungi alla barra delle applicazioni. Io non ho questa opzione perché il pulsante è già presente e quindi ho l'opzione Rimuovi dalla barra delle applicazioni. Ci sarebbero anche altri modi, però quello di creare un pulsante sulla barra delle applicazioni secondo me è il migliore, dunque clicchiamo una volta su questo pulsante. Automaticamente si apre Excel. Ora posso scegliere se aprire un file aperto di recente, come quello che ho utilizzato all'inizio di questo tutorial, un file vuoto oppure un modello di Excel e vi faccio presente che se fossi connesso a Internet ce ne sarebbero molti di più in questa lista. In questa lezione creiamo una cartella di lavoro vuota. È sufficiente cliccare una volta su questa anteprima. Automaticamente si apre la finestra di Excel, che ora descriviamo brevemente. Qui in alto c'è la barra del titolo. Qui a sinistra possiamo notare la barra di accesso rapido per i comandi più utilizzati. Qui al centro il titolo vero e proprio del file, cioè della cartella di lavoro, che siccome non è ancora stata salvata per impostazione predefinita si chiama Cartel 1, e qui a destra, come per ogni applicazione Windows, i pulsanti per ridurre la finestra icona, per ridimensionare la finestra e per chiuderla. Qui è inoltre un piccolo pulsante che permette di nascondere automaticamente la barra multifunzione, che ci consente di avere un'area di lavoro più grande. Lo stesso pulsante permette di visualizzare di nuovo tutto. Appena al di sotto della barra del titolo c'è la barra dei menu oppure la barra delle schede. Cliccando sulle schede, la parte sottostante, che si chiama Ribbon o nastro, cambia contestualmente alla scheda cliccata. Per non visualizzare la Ribbon, in caso di lavori molto grandi, potremmo cliccare due volte su una scheda qualsiasi e la Ribbon scompare. Per farla ricomparire possiamo cliccare ancora due volte su una qualsiasi scheda. Sotto la Ribbon abbiamo la casella Nome, che descriveremo in futuro, e la barra della formula, importantissima in un programma come Excel. Sotto la barra della formula vi è il foglio di lavoro vero e proprio, suddiviso in celle rettangolari, e qui in basso c'è la linguetta del foglio che contiene il nome del foglio di lavoro. Un file Excel si chiama anche cartella di lavoro, poiché al suo interno può contenere molti fogli. Il numero dei fogli che si possono inserire dipende dalla capacità di memoria del PC, e in una cartella di lavoro si possono inserire anche migliaia di fogli, anche se per ovvi motivi ve lo sconsiglio. Qui a destra e in basso ci sono le barre di scorrimento, in caso di fogli di lavoro che contengono molti dati, ed infine qui in basso, come in tutti i programmi, c'è la barra di stato, in cui è visualizzata la modalità in cui si trova Excel, e in cui è presente il pulsante per la registrazione delle macro, alcuni pulsanti per la gestione della stampa e delle visualizzazioni, e in cui si può gestire lo zoom del documento. Iniziamo ora a parlare della cartella di lavoro. Una cartella di lavoro, per impostazione predefinita, contiene un solo foglio. Se ci occorressero altri fogli, potremmo aggiungerli con questo pulsante. Ai fogli si possono assegnare nomi più significativi. Per farlo è sufficiente cliccare due volte sulla loro linguetta e digitare il nome desiderato. Un altro modo è quello di cliccare sulla linguetta del foglio, col tasto destro, e fare rinomina. Inoltre, le linguette dei fogli possono essere colorate, è sufficiente fare tasto destro, colore linguetta scheda, e scegliere il colore desiderato. I fogli possono essere anche riordinati. È sufficiente cliccare su una linguetta e trascinarla nel posto desiderato. I fogli possono essere anche eliminati. È sufficiente fare tasto destro, elimina. Nel caso nel foglio fossero presenti dei dati, dovremmo confermare l'eliminazione. A volte, per perdere meno tempo, può essere utile riutilizzare un foglio di lavoro e modificarlo. È dunque necessario creare una copia del foglio di lavoro e per far questo è sufficiente trascinare la linguetta col tasto CTRL premuto e in automatico verrà creato un nuovo foglio di lavoro identico al precedente. Possiamo così modificare il suo nome e cambiare i dati in esso presenti. Ad esempio, cambiare il numero della lezione e gli argomenti in essa presenti. Per selezionare più fogli contemporaneamente è sufficiente cliccare sulla linguetta del primo foglio, premere il tasto maiuscolo da tastiera e cliccare sulla linguetta del secondo foglio. A questo punto, cliccando sulla linguetta del primo foglio e premendo il tasto CTRL, creiamo la copia di questi due ultimi fogli. Per eliminare questi tre fogli che abbiamo creato per esercizio, possiamo cliccare sul primo foglio, premere il tasto maiuscolo e cliccare sull'ultimo foglio e poi fare tasto destro, elimina. Ci verrà chiesta conferma. Possiamo ora salvare il file. Siccome questo file era già stato salvato, è sufficiente cliccare su questo pulsante della barra di accesso rapido e il file viene salvato automaticamente. Se invece dovessimo salvare un file mai salvato in precedenza, questo pulsante aprirebbe automaticamente la visualizzazione di Backstage in cui possiamo scegliere Salva con nome, scegliere la cartella in cui salvare, ad esempio, adesso salviamolo sul desktop, e in cui possiamo assegnare il nome al file. Premendo su Salva, il file verrà salvato sul desktop, come possiamo notare qui in alto a sinistra. Infine, per chiudere il file, non dobbiamo fare altro che cliccare sulla X qui in alto a destra. Per quanto riguarda il foglio di lavoro, nella prossima lezione descriveremo nel dettaglio come si gestiscono le righe, le colonne e le celle e vi fornirò utili indicazioni su come spostarci velocemente al suo interno. Per ora è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro, e, se non l'avete già fatto, a considerare l'eventualità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video parleremo in modo dettagliato del foglio di lavoro. Vi aspetto. Ciao! Ciao!